Il processo di invecchiamento, anche noto come aging, è un processo fisiologico che comporta un callo delle funzioni neurocognitive muscolari. La sarcopenia, invece, è una condizione clinica che comporta perdita di massa muscolare e di forza, con conseguente calo della performance fisica. Perché è importante intervenire su questi pazienti? Innanzitutto perché sono a più alto rischio di mortalità, di traumi, di ospedalizzazione e molte volte sono resistenti alle terapie farmacologiche. Quindi intervenire significa migliorare la qualità di vita di queste persone. Quali sono i fattori? Sono diversi, possono essere squilibri ormonali, uno stato di malnutrizione, una malattia primaria, uno stato di degenza e quindi di totale inattività, che va a causare appunto perdita di massa muscolare. La diagnosi è molto complessa e prevede vari step, uno dei quali è la misura strumentale, quindi si utilizzano varie tecniche, tra cui la biompidensiometria e man mano che aumenta l'invasività si ha anche la densitometria ossea, la risonanza magnetica e la TAC. Ci sono degli esami cosiddetti funzionali, ovvero che vanno a valutare la performance fisica e la forza, come per esempio la forza di presa della mano di un soggetto, oppure le sue normali abitudini quotidiane, ovvero sarà il paziente a riferire che cosa è cambiato. È ovviamente importante e utile soprattutto avere un controllo biochimico dal punto di vista delle analisi. Come si interviene dal punto di vista nutrizionale? Una delle cose più sbagliate che potreste fare è dimezzare la quota calorica, ovvero questi pazienti richiedono energia, quindi hanno bisogno di essere nutriti, infatti l'intake energetico cresce, così come il fabbisogno proteico. Inoltre è opportuno spostare la dieta su un setting anti-infiammatorio, quindi riempire di antiossidanti naturali, quindi frutta e verdura. Curare l'idratazione ma soprattutto impedire lo stato di inattività, quindi cercare anche un'attività fisica molto semplice come per esempio farli alzare dal letto o farli percorrere il corridoio. Sicuramente la sarcopenia non è una questione che può essere trattata in maniera autonoma, quindi dovete per forza riferirvi al medico o al nutrizionista, ma ciò che potreste fare è valutare, soprattutto se parliamo di età geriatrica, vedere se c'è un calo di forza, un dimagrimento non giustificato chiaramente, è un calo di quello che è la circonferenza sia degli arti superiori che inferiori.